Siamo a Miralago nel front office naturale del parco regionale del Matinzi, abbiamo voluto ridare dignità a questo luogo che era stato abbandonato negli ultimi anni, abbiamo fatto qualche piccolo intervento di messa in sicurezza, di manutenzione e anche di abbellimento che vedrete fra poco, perché era necessario che questo luogo avesse quella giusta considerazione ma soprattutto quel ruolo fondamentale, cioè dove le associazioni come vedete anche stamattina possono dare informazioni, dove è presente il parco, dove è presente anche il comune di Castello e possono promuovere quello che è il territorio, un territorio splendido, un territorio di oltre 33 mila ettari, con 20 comuni, dove stiamo facendo anche una grande battaglia per prepararci ma soprattutto per essere pronti a quello che sarà il riconoscimento secondo me più bello, cioè la nascita del parco nazionale che quasi sicuramente nel 2021 arriverà, questo è il nostro obiettivo, dare dignità, dare riconoscibilità e soprattutto creare le condizioni affinché ci sia un luogo dove poter dare informazioni, un piccolo passo verso una normalizzazione di quello che deve essere l'attività di un parco. Grazie. Ciao a tutti, buona giornata. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. 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 Ci vuole il drone, forza!